Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nell'intro sempre uguale a se stessa di questo canale. Una sorta di scaramanzia dalla quale non so se dovrei liberarmi oppure no. Questo è uno di quei video senza capo né coda che ogni tanto vengono fuori sul canale. Sempre in queste situazioni ti chiedi a che livello di egocentrismo si arriva per mettersi a fare un video quando non si ha davvero nulla di nulla da dire. La verità è che si ha troppo da dire. O meglio che le parole si sono confuse le une con le altre, così come i pensieri che le generano. È molto molto difficile orientarsi in questa selva di rumore alla ricerca di un segnale, soprattutto quando si è, per così dire, eclettici, ma di un eclettismo che assomiglia molto alla pigrizia della superficialità, cioè che fa sì che ogni ambito, ogni tema, ogni situazione ti interessi sempre fino a un certo punto, perché tanto la fase più bella è sempre quella della scoperta e quindi sei pronto a saltare di palo in frasca alla ricerca della prossima suggestione, della prossima emozione e il lavoro costante, in interrotto, che è il conosci te stesso, ti porta ad una vera e propria crisi di identità. Chi ero pure io? Che cosa facevo io? Qual era il discorso? Sento che ho lasciato a metà un discorso ma non riesco più a riprendere il filo. Qual era il mio filo? Non me lo ricordo. Chi cazzo? Cosa? Uno di quei video lì, insomma. Ci sono tante cose da vedere, da sentire, da ascoltare, tante forme di espressione, di bellezza, di informazione, di svago, di assorbimento. Dovremmo focalizzarci, dovremmo sparire, dovremmo vaporizzarci in un'attenzione equamente distribuita fra tutti gli stimoli, senza più nemmeno l'illusione di poter trovare un segnale all'interno del rumore, oppure dovremmo specializzarci, no? Noi siamo quella cosa lì. Chi sono io? Ah sì, beh, sono quella cosa lì, la cosa che sempre sono, la cosa che sempre faccio. Il preciso tema, argomento, specializzazione, campo, ambito che mi ha. Ma, ecco, non lo so, non lo so, io non sono mai stato, ma molti che mi seguono mi hanno confessato di non essere mai stati quel tipo lì, che poi alla fine è un tipo che magari smussi e mostri come strategia, come posizionamento, verticale, la verticalità di un canale. Questo termine l'ho imparato alla Leopolda. Quella che è soltanto un personal branding, no? Io sono quella cosa, poi in realtà sei centomila altre cose, ma delle centomila altre cose ti fai i cazzi tuoi. Solo che questo diventa insincero, perché nel momento in cui ti mostri e decidi di mostrare soltanto una delle tue facce, che puoi anche chiamare maschere, ammesso che esista un volto primevo sotto le maschere, è un peccato non mostrare le altre, anzi diventa una strategia, diventa una strategia furbetta, furbesca. Mostrarsi per quello che non si è in fin dei conti, se si è una varietà, e forse in fondo tutti noi siamo una varietà, un caleidoscopio di umori, emozioni, possibilità, capacità espressive, incapacità espressive, allora mostrarsi per una soltanto è già mentire. Fermo restando che si parla tanto di menzogna, no? Avete visto i deep fake e face up, avete visto Jim Carrey che fa Shining, ma sicuramente come me avevate già visto Scarlett Johansson o Margot Robbie fare ben altro che Shining in precedenza, e avrete visto questa face up per cui possiamo vedere come saremo da vecchi, come saremmo stati da giovani. È tutto un affastellarsi, un assommarsi di possibilità, no? Essere sinceri, trasparenti diventa quasi una presa per il culo, una presa per i fondelli. C'è questa fascinazione per la menzogna, questo timore, no? Questo, oddio, adesso che c'è il deep fake, tutto sarà finto, tutto sarà falso, non esisterà più nessuna possibilità di discernere un messaggio, una comunicazione reale da una finta. Come se non bastasse il linguaggio, come se già ogni parola che diciamo non potesse essere una menzogna. Viviamo già nel deep fake, siamo deep fake puro, i segni, segno e tutto ciò che può essere usato per mentire ogni parola, ogni gesto, può già essere usata per dire una cosa falsa al posto di una cosa vera. Che bisogno? Abbiamo del deep fake per prenderci paura. Avremmo dovuto avere già paura da un pezzo. E come si fa? Come si fa a capire da dove viene il segno? Già qual è il segnale? Qual è il segnale che ci interessa? Cosa è il rumore? Cosa è il segnale? A quale fine? In base a quale scelta di pertinenza, che già sembra sempre un atto di presunzione, un coraggio davvero spudorato di smettere di relativizzare se stessi. E che cosa è vero? Che cosa è falso? Ma di che cosa stiamo parlando? C'è un contesto, la realtà continua ad esistere, anche con i deep fake se ti butti dal centesimo piano continui a cascare per terra, non è che mentre stai cadendo scarichi l'app e non ti ammazzi più. Quindi la realtà è lì sotto, continuano ad esistere, continuano ad esistere i contesti, continuano ad esistere tutte quelle marche linguistiche che ci consentono di valutare la buona fede e l'attendibilità di una fonte, di una persona, indipendentemente addirittura dal cosa, cosa che rarissimamente verificheremo. In realtà usiamo tutt'altri metodi per fidarci. E la nostra finezza linguistica, la nostra capacità di capire i linguaggi che tutti quanti parliamo sono in realtà il metodo più accurato, perché è tutto contestuale, tutto fatto di confronti inconsci, ma molto più profondi che facciamo, per capire cosa è vero, cosa è falso, che poi vero e falso sono parole che lasciano il tempo che trovano, dovremmo dire cosa funziona e cosa non funziona, sempre alla ricerca di quello che può assomigliare ad un experimentum crucis, il momento della verità, gli asini volano, ma gli asini non volano, ed ecco che gli asini non volano. E quindi così, il deepfake o il deepsalvini, bisognerebbe, no, stavo pensando, ma chissà, sarà già stata fatta o sarà già stata teorizzata, Borges oggi, ragazzi, dovrebbe pubblicarli appena li pensa i racconti. Bisognerebbe fare un deepsalvini, ovvero un Salvini, tale, quale, preciso, anzi che ricalca, no, la sua comunicazione, sia televisiva che internettiana, che però dice cose totalmente differenti. Per mettere alla berlina, per far vedere le strategie, strategie che sono molto interessanti, che abbiamo già discusso a proposito di Salvini, un altro di quelli che potevano essere i temi del video di oggi, uff, sempre a parlare di Salvini, ma per forza, vuoi non parlarne, vuoi parlarne, se ne parli, sei la sua cassa di risonanza, dovresti tacere, stai facendo il suo gioco, esattamente quello che lui vuole, ed è una tensione, tensione opposta, perfettamente contraddittoria, se non ne parli, che fai? Trascuri l'argomento del giorno, ma soprattutto trascuri di parlare di una delle persone più potenti ed influenti del mondo, e sicuramente d'Italia, e quindi in realtà taci di ciò di cui bisognerebbe parlare, due tensioni perfettamente contraddittorie, entrambe valide, entrambe vere, entrambe giuste, a dimostrazione che la vita non è poi così logica, e che si spezzano, un nodo gordiano, è un po' che non uso questa espressione, un nodo gordiano che si spezza semplicemente decidendo di parlarne, ma criticamente, allora analizzi come lavora, come funziona Salvini, non Deep Salvini, il vero Salvini, che in qualche modo dovrebbero lavorare allo stesso modo, in un lavoro che non sarebbe di relativizzazione dei linguaggi della verità, lo sarebbe soltanto apparentemente, in realtà sarebbe un lavoro partigiano, un lavoro che combatte una battaglia politica, insomma quello del Deep Salvini, come lavora il Salvini originario? Lavora di squadra, è molto semplice, ne abbiamo già parlato tante volte, tante volte ho usato il termine frontman per parlare dei politici, Salvini è il frontman per eccellenza, Travaglio lo prendeva per il culo, dicendo che Salvini non ha fatto mai un lavoro in vita sua, non ha mai lavorato in vita sua, la verità è che Salvini un lavoro lo fa, e che dovremmo pure abituarci a chiamarlo tale, perché poi ha tutti i crismi del lavoro, che è quello del comiziante, una vita di comizi, dalla gioventù padana comunista, i comunisti padani, fino ai sovranisti, ininterrottamente, comunicando, blaterando, 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 senza sosta, senza mai fermarsi, senza mai subire e soffrire, l'inautenticità di un discorso propagandistico, che non può che essere alla lunga inautentico, come si fa ad essere politici per così tanti anni, come si fa ad avere quella scorza, come si fa davvero a credere, forse, a quello che si dice, con tutte le contraddizioni nel tempo, tutti gli infiniti ips ed ips, che possono seppellire la logica, o la coerenza nel tempo, che qualunque politico vorrebbe mostrare per se stesso, che un politico onesto ed intelligente negherebbe, ammettendo il fatto che non si fa altro che aggiustare il proprio discorso, vorrei dire alla realtà, la realtà è che lo sia giusta, al consenso e alle sue logiche, come si fa, come ha fatto Salvini, di sicuro lo fa grazie a un team, almeno nei tempi più recenti, i tempi della bestia, quella di Luca Morisi, un team che lo supporta, un team all'interno del quale la divisione dei compiti è molto chiara, come nelle squadre di basket, penso all'NBA che funzionano davvero, in cui i ruoli sono molto ben definiti, Salvini è il frontman, Salvini è quello che comizia, voce del verbo comiziare, l'ho inventato adesso, Salvini sta lì, comizia, 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 e ininterrottamente c'è chi si cura del suo piazzamento, c'è chi si cura di ciò che bisogna dire, delle cose che emergono altrove, che bisogna rintuzzare, quel missile, un missile aria disarmato, chiaramente pensato per Salvini, e così via, e così via, e così via, ma è un lavoro di squadra, bisogna essere in tanti, e ci si domanda come si fa a batterlo, sicuramente non come fanno gli altri partiti, che non hanno capito minimamente il come, e che si ostienano a pensare che basterà il cosa, che equivoco, che equivoco terrificante, è uno degli equivoci, proprio che fa parte della distinzione segnale-rumore, una delle illusioni più diffuse, per quanto riguarda la comprensione della realtà che ci circonda, una delle illusioni che fanno maggiormente parte del nostro modo di stare al mondo, è pensare che i dati siano il segnale, e che l'interpretazione sia il rumore, buona fortuna, trovare dei dati che siano scevri di interpretazione, non è così, non è così, ci sono scelte di pertinenza, noi stessi seguiamo in ogni momento un palinsesto, che è il palinsesto della nostra giornata, che è il palinsesto della nostra identità, che è il palinsesto di quello che stiamo costruendo, e che crediamo possa stare in piedi come noi stessi, come memoria di noi stessi, che sarà la nostra identità di domani, ma ne siamo davvero sicuri? Siamo davvero sicuri che non la vorremmo cambiare a posteriori? Il bis pensiero di Orwell? Forse lo faremo un bel giorno. C'è chi lo fa con totale nonchalance, c'è chi se ne importa, c'è chi se ne sbatte, e riesce con totale nonchalance ad essere la contraddizione della contraddizione della contraddizione della contraddizione, così in eterno, senza nessun problema per vincere, lo scopo è vincere, io vorrei chiedere soltanto questo a Salvini, mi piacerebbe avere, ma con Salvini come con tanti altri, Salvini è l'uomo del momento, mi piacerebbe parlare con lui e chiedergli Matteo, ma in sincerità, anche in guarda, te lo chiedo con affetto, sincero, ma lo scopo è vincere? Cioè, vuoi vincere? Qual è lo scopo di tutto questo? Ci sarà qualcuno lì in mezzo che ci crede veramente? Ma una persona che così tanto ha cambiato idea, così tanto ha seguito con intelligenza, anche con adattività inconsapevole, darwiniana, ciò che funzionava a livello di comunicazione, di consenso, qual è il filo? Se io, come tutti, ho la sensazione di perdere il filo, è possibile che non ce l'abbia mai? Chi quel filo ha cambiato tante volte? Forse dovremmo preoccuparci di meno. Sto giochicchiando con questa cosa che è di Vimini, tutti questi intrecci. Forse dovremmo preoccuparci di meno. Dovremmo accettare il fatto che, sai, ci si rettifica. Ed è importantissimo rettificarsi, ci mancherebbe altro, però viene veramente da domandarsi, accidenti, dove andiamo? Con tutte queste parole, con tutte queste interpretazioni. L'asino non vola, è vero, ma una volta che l'asino non vola non hai mica finito di vivere. Non è facile. Non è facile. Ti viene sempre da pensare che ci debba essere uno scopo, uno scopo ultimo. Vincere? Vendere? Crescere? Avere ragione. Avere ragione. Avere ragione. Avere ragione. Che è un vincere anche quello. Io ho avuto ragione. Io ho torto. Ammetto di avere torto, quindi sono nobile, quindi ho ragione. Quindi sono migliore di te. No, quello non è un vincere, quello è un essere migliori. Essere quelli che danno la lezione agli altri. Essere popolari. La reputazione. La reputazione. Avere una reputazione. Che illusione anche quella, vero? Avere una reputazione eternamente disinterpretata. Come scrivere un testo. Come scrivere un libro. Come scrivere Macbeth o scrivere Amleto, no? Pensate che Shakespeare intendesse dire qualcuna delle cose che gli abbiamo fatto dire a distanza di secoli. Forse qualcuna, ma se sì per caso. Quello che dovremmo inseguire. Cosa dovremmo inseguire? Non voglio fare un video che sembri relativista e nichilista considerando che non sono nessuna delle due cose. Che cosa è che dovremmo inseguire? Che cosa esiste di tangibile che non sia soltanto l'asino che non vola? Al di là del dato brutto che può servire nel laboratorio dello scienziato ma che al di fuori sembra quasi beffarsi di noi, no? Come un pubblico che non ci segue, no? Immaginatevi Freddie Mercury che fa Gira il microfono e lo stadio è silente. Così è il nostro rapporto con i dati. E la realtà tace. Ancora noi dobbiamo farla parlare. Che beffa, vero? Che cosa c'è di autentico, quindi? Considerando che segno è tutto ciò che può essere usato per mentire e che di segno è fatto il nostro pensiero, la nostra mente, la nostra autocoscienza, se volete. Che cosa rimane di autentico? Che cosa rimane di vero? Che cosa non è dispersivo? Che cosa non è questa fatica infinita, no? Di tirare la linea di un'identità cercando di non essere insinceri almeno con se stessi. Come si può fare? Cosa c'è che non funzioni così? Esistono, esistono dei momenti di autenticità. Hanno suonato alla porta se si illudono che io vada ad aprire sbagliano di grosso. Esistono dei momenti di sincerità. Esistono dei momenti di autenticità. Potrebbero essere misinterpretati ma a volte abbiamo la sensazione di condividerli con gli altri. Sono esistiti nella vita di tutti noi dei momenti in cui ci siamo veramente sentiti vicini al nostro prossimo. In cui abbiamo sentito l'altro e l'empatia con l'altro. In cui ci siamo sentiti vicini in una reciproca autoironia. L'autoironia che è necessariamente il linguaggio del del relativizzarsi senza morire. Del relativizzarsi senza prendersi così sul serio da volersi annichilire. Autoironia affetto reciproco affetto nel riconoscimento dei difetti reciproci dei reciproci limiti la sensazione che un'impresa comunque ci sopravviva che un'impresa comunque passi da un corpo all'altro questo testimone che daremo agli altri e che guardiamo con sospetto mi sa che sto ripetendo un po' di cose che ho già detto per i patron queste cose pure le abbiamo sentite eppure la vita continua eppure la vita continua e questo basta tuttavia siamo esistiti come è che diceva Walt Whitman tuttavia siamo esistiti o anima o libro tutto deve essere limitato per vorrei avercelo qua non ce l'ho qua nella sua poesia che non mi ricordo neanche come si chiamava se qualcuno di voi ha capito di cosa sto parlando la metta nei commenti tutto deve essere limitato a questo eppure è abbastanza è abbastanza il vero movimento del relativizzarsi del non prendersi troppo sul serio del capire la dimensione del proprio ruolo nel mondo è capire che è abbastanza non capire che è poco è questa la vera rivoluzione che possiamo fare presso noi stessi è questo esserci versus essere assenti versus dargliela su come si dice mi rendo conto soltanto dalle mie parti credo più in Romagna e che in realtà probabilmente viene dall'inglese give up chi lo sa dargliela su comunque rinunciare arrendersi non arrendersi a capire che non si è poi così poco che si è abbastanza che ciò che sei è abbastanza è abbastanza per fare tanto e quel tanto è qualcosa soltanto nella misura in cui è un lascito è qualcosa che sarà usufruito dagli altri e tu non devi minimamente avere l'ambizione di come questo sarà interpretato non devi minimamente o meglio mi sono espresso male non devi minimamente avere l'ambizione di un po' come una Rowling che vuole tenere le redini dell'interpretazione del suo testo non devi avere l'ambizione di regolare ciò che capiterà i tuoi segni dopo che ti sono passati attraverso e che li hai lasciati con la tua firma nel mondo ti devi accontentare di avere fatto il meglio esiste un testo totalmente privato che è fatto di segni pubblici che è la coscienza che puoi condividere finché vuoi ma la cui cartina di tornasole sarà sempre privata un foro interno preso a prestito ma il cui giudice finale sei comunque tu stesso eppure questo foro interno genera testi che saranno altrui e che quindi implicano una responsabilità verso l'altro e che è il tuo senso direzione e significato già detto centomila volte come si fa non ripetersi tra l'altro l'incessantismo l'incessantismo salviniano che è anche l'incessantismo di Twitch che costringe forza per buone buone ragionevoli ragioni tanto per non essere ridondanti a ripetersi 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 la cosa da dire sarebbe una ma se la dici una volta sola è come se non l'avessi mai detta e invece la devi ripetere e ripetere e ripetere questa cosa succedeva anche prima è dell'incessantismo internetiano quanti conferenzieri quanti studiosi ripetono le stesse cose copi incollano gli stessi paragrafi in conferenze e testi differenti ma è una cosa assolutamente d'uso in ambito accademico le cose da dire sono quelle e si modificano le virgole si modificano gli appigli gli agganci i sostegni perché il mondo intorno cambia e solo di rado hai la sensazione di dover cambiare tutto ma molto spesso hai la sensazione di dover cambiare tutto semplicemente perché sei annoiato da te stesso perché chiunque di noi vive rintronato rimbambito rincoglionito dal proprio monologo interno che ha sempre la stessa voce comunque la si giri e allora una mattina vorresti giocare ad essere il contrario di quello che sei ma è un gioco che dura poco forse per questo è un bel gioco è così rumore confusione tantissima confusione una confusione insopprimibile all'interno della quale la nostra voce pure esiste ed è molto importante molto molto importante la verità è che non bisogna arrendersi mi dispiace avrei voluto dire qualcosa di più poetico avrei voluto uscirmene con qualcosa di più caustico di più boh che sa di morte di infinito di che ne so di assoluto invece no la verità è che non bisogna arrendersi la verità è che si conta poco ma quel poco conta tanto e che non bisogna arrendersi e che bisogna fare le cose per gli altri e accettare il fatto che gli altri non ci renderanno giustizia ci misinterpreteranno ci abbandoneranno ci dimenticheranno anche dovessimo essere immortali come Shakespeare comunque dimenticato ma noi quello dobbiamo fare perché noi quello siamo siamo le parole degli altri siamo i pensieri degli altri che ci passano attraverso e che ci consentono una firma effimera ma che è comunque un cambio del flusso ininterrotto di tutto questo rumore segnale segnale rumore rumore segnale a seconda di cosa vuoi di qual è il tuo problema da risolvere di qual è la verità che vorresti tenteresti spereresti di avere davanti e si passa si passa ma esistono io credo che esistano dei momenti dei momenti di consapevolezza di solidarietà reciproca come dicevo prima di autoironia di pietà esistono dei momenti veri di vera pietà di potere di potere di potere di potere di potere Grazie a tutti